Il Movimento Studenti Macerata è presente oggi a questa importante giornata di mobilitazione delle marche per mostrare il proprio dissenso alla politica promossa dal governo Monti. Politica che vede dei forti tagli agli investimenti statali e parallelamente vede invece una grande richiesta di finanze alle casse pubbliche. Noi del Movimento Studenti ci siamo opposti fin da subito a questa manovra perché non riteniamo giusto che dobbiamo essere sempre noi a pagare di tasca nostra le spese per una situazione di crisi. Non accettiamo e quindi questo è il primo passo per dimostrare la nostra forte opposizione. Il Movimento Studenti ha visto già dal precedente anno una forte repressione nei confronti degli studenti con l'aumento delle tasse e quindi con questa manovra ci sarà un ulteriore incremento delle tasse e quindi per noi ci sarà sempre la riduzione del diritto allo studio. Per cui parallelamente a questa giornata porteremo anche il nostro segnale verso una riforma del welfare studentesco alla regione Marche e quindi iniziamo da qui la nostra strada verso un percorso che sarà molto duro.